VOLTOR 1-6 Sop, sali su quel cassonetto e preparati a eliminare le guardie sulla torre al mio segnale, gli altri con me. Sop, falli fuori, ora. Via, via, via! Fuoco a volontà. Sop, falli fuori, ora. Sop, falli fuori, ora. Sop, falli fuori, ora. Non abbiamo molto tempo, muoviti. Amico, con quell'uniforme sei ridicolo. Per fortuna sei quassù, perché di russo non hai proprio nulla. Bravo sei, qui VOLTOR 1-6. Stiamo seguendo un convoglio nemico diretto verso di voi. Sono sei veicoli. Passo. Ricevuto. Nessuno spari fino al mio ordine. Signore, bersaglio in vista a bordo del terzo veicolo. Gli sto passando davanti adesso. Ricevuto. A tutte le squadre, rimanete in attesa. Bersaglio sulla jeep davanti al BMP. Ci serve vivo. Occhio a dove sparate. Attendete. 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 Fateli fuori. Abbiamo compagnie, signore. Preforti nemici al BMP. Sta per soltire la torre. Attendetevi. Da merda. Il bersaglio sta scappando. Sop, vai con Gricks e inseguitelo. Noi pensiamo ai rinforzi nemici e vi raggiungiamo. Via, via. Squadra bravo. Qui VOLTOR 1-6. Sto seguendo il bersaglio. Chiavolo. Corre come una lepre. Ok, ha passato la discarica nord-ovest. Acciuffatelo. Forza, forza. Bersaglio in movimento verso nord. Si dirige verso la periferia della città. Attenzione. L'area è piena di forze ostili. Passo. Sop, arriate a via ore 6. Sop, arriate a via ore 6. Sto seguendo sul ritmo. Sop, arriate a via ore 6. Sto seguendo. Sop, arriate a via ore 6. Sto seguendo. Sop, arrivate a via orecchesso. Sop, arriate al postocio. Ascente io e surprisingi. Vi constitua socialistica. Di son effetti a via acce al posto di passino doctors. Sop, arriate a viakescil. Cambio caricatore Attenti con le armi, dobbiamo prenderlo vivo! Versaglio di nuovo in movimento, c'è una piccola traversa sulla sinistra, potreste chiuderlo lì! Diversi nemici sull'altro lato della recensione in ferro! Due nemici in arrivo, lo passano a destra! Due nemici in arrivo, lo passano a destra! Sì, li avete presi! Sì, li avete presi! Sì, li avete presi! Sì, li avete presi! Rilevante attività sui detti! Movimenti sul tetto, ricevuto! Ben fatto! Forse ostili, secondo piano a destra! Fate presto, l'obiettivo sta fuggendo! Sì, li avete presi! Sì, li avete presi! Due nemici in vista attenti all'olto verde dietro l'angolo! Due nemici in vista attenti all'olto verde dietro l'angolo! Recivuto il primo piano è libero, attendete! Ok, bersagli eliminati! Potete andare! Sguarda bravo, avete sempre in vista il bersaglio, passo! Affermativo! Il bersaglio è entrato nell'edificio a 5 piacere! Il bersaglio si muove lungo il secondo piano dell'area est dell'edificio! Fits! L'agrile in, ha? L'agrile in! Pochi! Grazie a tutti. 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 La nostra economia è l'onore. La nostra terra tinta del nostro sangue e il mio sulle loro mani. Sono degli invasori. Tutti i contingenti usa e britannici devono lasciare subito la Russia e pagheranno le conseguenze. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.